eccoci qua bonjour ancora piove e quindi approfitto della pioggia per parlarvi di che cosa di per parlarvi di una mia previsione del futuro quindi di un futuro automatizzato e che cosa vuol dire automatizzato vuol dire che noi abbiamo a disposizione la tecnologia e possiamo adoperare la tecnologia per avere più tempo libero vi vado a descrivere lo scenario lo scenario è il seguente noi andiamo a fare la spesa dove al supermercato che è la cosa più sbagliata però anch'io ci vado perché cosa per una questione di comodità perché perché le motivazioni sono diverse e le motivazioni derivano sempre da quella cosa che io dico noi dobbiamo essere onesti perché alla fine ci guadagniamo tutti quando tu vai dal negoziante adesso io non sto cercando di generalizzare però capita che il negoziante quando ti vende la merce non quella confezionata ma quella che non ha confezione quindi al letto al chilo no tipo il formaggio che lo prende e lo taglia davanti a te il negoziante usa delle tecniche che non sono solamente le tecniche della truffa cioè magari di avere la pesa io vi sto facendo degli esempi le pese oltretutto sono anche tutte controllate mi sembra che periodicamente tu debba andare a far controllare le tue pese e verificare che sia tutto a posto però a parte quello provate solamente a pensare una pesa che ti che ti che ti fa che fa figurare che un qualcosa pesa 4 5 grammi in più beh ma 4 5 grammi in più voi dite beh ma 4 5 grammi in più c'è non c'è la differenza neanche di un centesimo non è vero che c'è la differenza neanche di un centesimo poi 4 5 grammi in più moltiplicato tutte le volte che viene pesato qualcosa e nell'arco dei 365 giorni alla fine fa una bella differenza non sono soldi dovuti perché se tu esponi il formaggio a 17 euro al chilo quello deve essere non deve essere 17 euro al chilo e poi la bilancia fa di più oppure 17 euro al chilo e il negoziante invece di battere 17 se tu non stai attento batte 18 poi lui fa sempre in tempo dire scusa mi sono sbagliato ma il tasto 8 è vicino al tasto 7 allora per comodità ma io vi ho fatto solamente un esempio perché poi il negoziante con il negoziante tu hai un rapporto diretto buongiorno signore buongiorno signora no e mentre al supermercato tu giri in giro per gli scaffali non c'è nessun buongiorno signore o signora a parte i banchi dove ti vendono il pesce chi lo mangia io non lo mangio o la carne o allora lì magari ma ci sono già negli scomparti c'è anche il pesce confezionato neanche neanche le casse ormai le casse sono tutte tutti i prodotti hanno corice a barre il futuro è quello vogliono eliminare le cassiere ci sono già le casse quelle dove tu paghi dove tu paghi facendo facendo tu il cassiere quindi c'è un lettore del codice a barre e che cosa cosa ci sarà in futuro perché la tecnologia metterà soprattutto le multinazionali in condizioni di avere sempre meno dipendenti che sono effettivamente un costo per loro oltre alle spese di corrente e comunque le tasse comunali provinciali regionali centrali che bisogna vedere in che modo le multinazionali le pagano però andando avanti andando avanti e pensando che rimarrà sempre solamente uno questo uno che rimarrà no perché questo di questo si tratta noi tante volte non ci pensiamo a questo ma il fatto che rimanga uno solo vuol dire che monopolizza e il monopolio non prevede scelta come già i supermercati fanno l'ho già detto un'altra volta per la questione delle viti tuo supermercato vai ci sono quattro tipi di viti e ti adegui a quello perché le viti sono quelle cioè noi pensiamo di arricchirci con i supermercati grandi magazzini centri commerciali invece no proprio contrario comunque questi supermercati che cosa faranno metteranno in condizione produttori e anche produttori di finocchi di zucchine di di cavolfiore di cavoli di melanzane metteranno in condizione queste persone di inserire il prodotto in appositi contenitori quindi di non fare più la raccolta come si faceva una volta prodotto in appositi contenitori di modo che questi contenitori vengano caricati sui mezzi di trasporto portati nei nei capannoni perché supermercati sono dei capannoni quindi c'è un retro del supermercato dove voi non vedete ma dove c'è la merce dove la merce viene stoccata e in questi in questi capannoni ci saranno solamente delle persone che caricheranno dei pallets pieni di finocchi e li infileranno dentro ad una postazione e che poi uno ad uno uno ad uno con l'automazione provvederà a smistare a smistare il prodotto quindi il finocchio lo zucchino la melanzana li confezionerà cioè li farà confezionerà confezione e li metterà nelle apposite macchinette quindi non ci sarà più l'esposizione del cavolfiore sul banco ci saranno delle macchinette distributrici come andate a prendere voi il caffè che c'è la macchinetta no il la coca colla la bibita la 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 pesicola la cola così ho fatto pubblicità a tutti e nessuno se la metterà e non diranno che ci sa che c'è pubblicità occulta oppure le le bibite in generale tu schiacci il bottone inserisci la monetina o la carta di credito e scusate ma ho appena fatto colazione quindi tu andrà al supermercato non ci saranno più i commessi non ci saranno più gli inservienti non ci saranno più le persone che noi clienti prendiamo come bersaglio ci saranno solamente dei degli espositori dove tu dici a il finocchio eccolo qua bene metti la carta di credito oppure metti la tesserina del supermercato infili dentro e ti prendi il quello che ti serve eliminerà posti di lavoro la gente quindi io non di io non dico che quella è una brutta cosa dico quella è una buona cosa rimane il fatto che cioè con 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 tutte queste con tutte queste con la tecnologia l'uomo avrà più tempo a disposizione per poter fare quello che vuole rimane il fatto che quando tu vai al supermercato o questi centri che saranno chiamati centri alimentari non so come li chiameranno quando tu vai lì deve avere credito per poter credito per poter per poter acquistare quindi se tutti i posti di lavoro io prevedevo anche l'officina meccanica io sono andato da dal meccanico da dal quale vado di solito e scusate ma ci sono i cacciatori qua fuori ma non ci dovrebbero essere che divertimento del cazzo vabbè lasciamo perdere stavo dicendo quindi rimane il fatto che le persone per andare al supermercato per andare comunque ad acquistare se poi si chiamare si chiamerà supermercato come si chiamerà dovranno avere del credito e se non lavorano perché tutto è sostituito dall'automazione anche le riparazioni delle auto perché non ci saranno più le le tue le officine del meccanico che viene lì si ama qui si ma le fa no ma se mi paghi il nero ti faccio lo sconto capito io sono contro le tasse per cui per me pagare il nero non esiste cioè uno fa un lavoro e viene pagato punto e soldi sono i suoi basta pagare l'iva imposta il suo valore aggiunto ci saranno persone disoccupate che non avranno lavoro e finalmente le persone perché poi li cadrà tutto capito perché non c'è alternativa se tu proietti questa cosa nel futuro capisci che l'alternativa non c'è perché se le persone non hanno niente da fare che cosa fanno stanno a casa e si coltivano l'orto così non vanno più al supermercato a comprare la roba che ti vendono nelle macchinette chi andrà al supermercato forse i professionisti che non hanno tempo per stare a casa a farsi l'orto forse gli artigiani però la maggior parte delle persone quindi quindi la tendenza è quella c'è la la bilancia la bilancia deve essere deve essere ben distribuita quindi è tempo che non il governo italiano ma è tempo che ci sia una presa di posizione e che l'invasione di delle merci che arrivano da tutte le parti del mondo siano siano ridotte piano piano perché non può essere tutto tutto d'un colpo siano ridotte per permettere per permettere alla redistribuzione della ricchezza quindi della felicità io quando ero bambino camminavo per le strade sentivo i muratori che cantavano sentivo gli imbianchini che fischiettavano sentivo la gente felice perché la gente in giro era felice perché perché c'era ricchezza c'era ricchezza per tutti mio padre usciva dal lavoro e andava a fare un'altra giornata un'altra mezza giornata andava ad integgiare appartamenti o strutture di altri ma io vi ho fatto solamente un esempio io stesso ho sempre fatto due lavori uno di sera uno di giorno adesso i ragazzi di vent'anni per fare camerieri con una laurea devono andare a londra e questa cosa mi fa diventare triste quindi pensare e il richiamo di interagire con me per lo scambio di idee non per noi almeno non per me ma per i nostri figli fate i carini e adoperate il cervellino bye bye